Lorenzo Tubertini, settimana intensissima che si chiude, in una settimana tre test, venerdì scorso il giorno del Colle, Vantieri la Mezzia Terme, oggi Catania, soprattutto oggi si è quasi respirato aria di campionato perché ci hanno messo alle corde, soprattutto in battuta, è sembrato un bel test insomma. Sì sì, è quello che speravo che si verificasse perché adesso cominceremo dai prossimi giorni a cominciare ad avere un buon livello in allenamento con l'arrivo dei due belgi, si alzerà e volevo in questo periodo qui poter disputare qualche amichevole in più e con squadre anche già più avanti come ritmo di gioco rispetto a noi. in maniera che ci dessero lo stimolo per poter accelerare, questo è accaduto, infatti il primo set siamo stati un po' in difficoltà, poi dopo abbiamo cominciato a trovare i ritmi giusti per il livello di gioco che stasera potesse essere espresso. Due set pieni per Peter Veresh, leca anche qualcosa in più, sono arrivati appena ieri, che dire di questi due atleti che vanno a comporre quasi definitivamente il nostro mosaico? Sì sì, questa amichevole l'avevo organizzata apposta, ci tenevo che loro potessero arrivare e disputare subito qualche set con Coscio, col paleggiatore, sono giocatori esperti che sanno adeguarsi subito alle richieste che gli vado a fare e quindi già subito si è visto delle cose, insomma, sono giocatori che innalzano il livello della battuta, sono due giocatori abbastanza fisici quindi anche col muro alzano il nostro livello e adesso c'è bisogno di tempo per poterli fare ambientare un po' con tutto il gruppo, con tutto l'ambiente e strada facendo insomma li vedremo crescere sempre più. Tempo ce n'è come dici tu ma già martedì 11 settembre mancherà esattamente un mese all'esordio ufficiale stagionale in Coppa Italia contro Ravenna, un appuntamento che già vi tiene belli carichi perché sicuramente è una gara da dentro fuori. Sì, il tempo passa quindi si avvicina sempre di più e non deve essere un'ansia, non deve essere uno stress, siamo nei tempi, c'è un periodo programmato, sono sedute tutte organizzate, siamo nei tempi giusti e quindi insomma continuiamo con il nostro programma di lavoro, cerchiamo di, come ho detto adesso, di trovare un buon livello tra centrali e schiacciatori dopo quando arriverà Antonov, dopo lì insomma arriveremo a essere completi in tutta l'area centro rete, posto 4 e lì lavoreremo fino all'arrivo di Pecce che sarà appena una settimana prima della Coppa Italia, insomma non ci sarà tanto tempo lì per stare a variare tante cose, quindi quello che potrà darci lì lo prenderemo. Grazie mister, buona domenica. Grazie, grazie a voi.